Però aspetta, mi devo rispettare? Sì certo, spostatelo pure, mi raccomando metterlo perfettamente in ass Lì perfetto, un pochino più al sinistro, non è armata vero? No no, vai tranquillo, spingi Ok, vieni un pochino più indietro, possiamo fare una simulazione che io parto tranquillo e poi ho la failure in volo? Esatto, la faccio io la failure, ci siamo? Sì, perfetto, puoi dar gas, controllo manetta, prova Ok, volo stabilizzato, surf level, portalo davanti a noi una trentina di metri di distanza, mantieni un'altezza di circa 3-4 metri, non di più Così, fermo lì, ok, stabilizzalo e mettilo fermo esattamente in quel punto, ok, ti è partito un motore Vado a destra deliberatamente? Sì, non troppo perché cerca di fare direttamente l'atterraggio Ok, allora siamo in emergenza, a distanza di sicurezza, c'è circa lì Sì, anche un pochino più vicino Ok Non atterrare subito, portatelo davanti e ragiona bene su quello che devi fare Esattamente, aspetta, ora è stabilizzato Ok, fermalo lì Fermalo lì, fermalo lì Eccolo Tieno fermo un po' davanti a te, cerca di tenerlo in quella posizione Non farlo atterrare subito, cerca di stabilizzarlo in quota Ma sono folate? Ho sentito che mi stabiliscono lì No, 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 sono folate di vento Ok Ok, piano adesso, raggiungi il suolo Metà altezza, stabilizzo 10 centimetri, stabilizzo giù Ottimo Grazie a tutti